La Giunta Comunale di Giulianova ha dato il via libera ai lavori di riqualificazione di via Nazario Sauro nel tratto compreso tra Piazza Dalmazia e Piazza Fosse Ardeatine. Si tratta di un primo stralcio cui seguirà un secondo intervento che andrà a investire il tratto rimanente di via Sauro sino al sottopasso pedonale in prossimità della ferrovia. Questo è il primo stralcio di un progetto più ampio che prevederà in tempi brevi anche la riqualificazione dell'ulteriore tratto che è ricompreso fra via Leorsini, via Trieste e la strada ferrata verso ovest. Costo comprensivo 210.000 euro. Ora l'iter proseguirà e contiamo di appaltare l'opera per la fine dell'anno e iniziare il lavoro in anno nuovo in modo tale da avere via Nazario Sauro con un nuovo decoro per la prima era estate. Inoltre abbiamo approvato un'altra opera di grande civiltà e importanza che riguarda l'abbattimento ulteriore delle barriere architettoniche nel tratto che è ricompreso fra via Gasbarrini creando una sorta di percorso anello con il lungomare monumentale fino a via Simoncini e poi a ritroso per via Trieste e via Orsini per ricongiurgersi a via Gasbarrini. Anche in questo caso un progetto che ha un finanziamento di 40.000 euro che è il primo stralcio di un progetto più ampio che riguarderà anche tutte le altre strade del Lido, del centro storico e delle periferie.